Ciao, mi chiamo Santucci Massimo e ho un panificio alla Spezia e sono sempre alla ricerca di migliorare i miei prodotti. Ho visto un video di Andrea Di Giglio, gratuito, e mi è piaciuto da subito. Ho deciso di acquistare i suoi corsi e avendone fatti parecchi, ormai è 30 anni che sono in commercio e ho il panificio. Posso dire che quando si viene a casa solitamente si porta a casa forse il 50% dei dati che ha dato il maestro, mentre invece con Andrea Di Giglio è diverso perché i corsi sono registrati, te li puoi riguardare per un anno quante volte vuoi. Se hai una domanda la poni allo chef lui ti risponde e secondo me è un successo, è una cosa che farà migliorare parecchi panificatori come me. Ciao e questo è un ringraziamento allo chef. Grazie.